Grazie e benvenuti in questo ancora nuovissimo video di mini-work Di mini-work volevo dire C'è una mappa C'è un chino brutte Ma che c'è Perché non ha i miei filmi? Ascoltate ragazzi No, che lo devo fare? Perché c'è sta cosa Eh dai, mi bago C'è un amico Si bagga Ogni volta si bagga Se la Playstation non si bagga Perché io ho la Playstation Lube No, quello mi vuole uccidere Eh, lo sapevo Mi vuole uccidere Ok, prendiamo Così è ancora più figo Con questo appuntino Quello che c'è davanti Lo vedete Lo vedo anch'io Guardate Ok Ok Stavoite l'ho uccidata Ok, prendiamo l'ho uccidata Ok, prendiamo l'ho uccidata Allora, dove stanno i letti Scrivetemi dei commenti Ah no Perché questa non è una larga Eh, vorrei che la fosse Non so come si fa Letti la tu di pittà Non sono pochi Ma posso invitare i miei amici? No, non posso invitare Però un po' di persone Gesù Ok, basta Ciao Iscriviti al canale